Un piatto povero rivisitato in modo innovativo ed elegante. È la zuppa toscana del raviolo che ha conquistato sia la giuria tecnica che quella popolare della tappa all'istituto alberghiero Matteotti di Pisa di primi di Toscana. La sfida tra gli allievi di 14 istituti alberghieri promossa dalla regione toscana per raccontare e valorizzare i primi piatti della tradizione regionale. I primi piatti che usciranno da ciascuna sfida interna agli istituti gareggeranno nella finale che si svolgerà l'11 maggio al Saffi di Firenze. La competizione purché sia sana e corretta è un elemento di stimolo per tutti quindi in una gara di cucina i ragazzi danno il meglio di sé e in una competizione approfondiscono quelli che devono essere gli elementi che gli devono servire per far crescere. Una gara culinaria che li porta come in questo caso che riguarda i primi di Toscana li ha portati allo studio dei piatti della tradizione. Una tradizione rivisitata con creatività e abilità dal terzetto di ragazzi di quarta che ha vinto aggiudicandosi la finale grazie a un'intuizione in apparenza semplice ma frutto delle loro competenze. Inserire in un tortello la classica zuppa toscana e utilizzare come contorno il cavolo nero. Io ho pensato poi su consulto anche loro di mettere invece che di presentare una zuppa toscana classica di rivistarla e metterla dentro un raviolo come iniziativa e si è provata un paio di volte a casa ci è sembrata giusto di sapore di sapidità e di tutto e allora abbiamo deciso di portarla come piatto per questa esperienza. Tanti gli esponenti del mondo enogastronomico toscano che si sono complimentati con i ragazzi, con gli organizzatori di primi di Toscana e con la scuola per la professionalità dimostrata dagli studenti anche nella presentazione dei piatti e nell'allestimento della sala. Non solo si sceglie un piatto ma si sceglie anche il vino da abbinare al piatto. Questo per valorizzare proprio la nostra terra che è una terra che è fatta di prodotti tipici di qualità e che soprattutto aiuta i nostri giovani a conoscere quella che è la filiera corta. E un plauso da parte di tutti naturalmente è andato alla fine alla zuppa vincitrice che ora volerà alla finale di maggio a Firenze. Una grande idea soprattutto una bellissima innovazione che devo dire ho anche gustato con grande piacere. Devo dire una grande performance da parte di tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa selezione e ora in bocca al lupo per Pisa per l'11 di maggio.